Vado? Ritornano i saldi di Dotolo Mobili. Da oggi puoi rinnovare il tuo arredamento con i prezzi più convenienti di sempre. Soltanto qui da noi troverai imperdibili sconti fino al 70%. Approfitta di questi veri affari con i saldi di Dotolo Mobili su cucine, camere, divani, a prezzi introvabili. Approfitta di questi veri affari con i saldi di Dotolo Mobili su cucine, camere, divani, a prezzi introvabili. Ok? Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola, Caserta. I saldi terminano domenica.